Come sono andate le elezioni europee? Siamo qui apposta per fare un'analisi e propongo un metodo di lavoro e cioè partiamo dall'Europa, andiamo in Italia e poi vediamo le eventuali ripercussioni sul governo. Se questo percorso vi piace, prendete una sedia, mettetevi comodi e ne parliamo qui su questo video. Lasciatemi però dire una cosa che ritengo davvero, davvero importante. Avete visto quanto hanno pesato le schede bianche di chi si è astenuto nell'urna? Accidenti, ora sì che emergeranno forze d'opposizione a nuovi partiti politici che occuperanno quelle migliaia di schede bianche. Immagino che tutti abbiate visto quel dato così fondamentale. Ma bando alle ciance iniziamo parlando di quello che è il panorama del Parlamento, del nuovo Parlamento europeo. Cosa dobbiamo dire? Secondo me le cose da dire sono poche ma importanti. Dobbiamo dire che gli equilibri tra forze europeiste ed euroscettiche e sovraniste non sono così cambiate. Sicuramente c'è stata una tendenza a ribasso per le due forze più tradizionali che hanno sempre occupato la maggior parte del Parlamento europeo, e cioè i socialisti europei, i socialisti democratici, quelli dove stava il PD, vi ricordate quando il PD ha preso il 40% e poi è stata nominata la Mogherini? Ecco, quello era frutto della potenza del 40% del Partito Democratico che in quel gruppo, il secondo, il Parlamento europeo, occupava il primo posto. Cioè il Partito Democratico era la truppa più nutrita dei socialisti democratici. Mentre il Partito Popolare europeo è quello dove c'è Berlusconi e dove c'è anche la Merkel, su cui ha evidentemente un grande potere. Ma noi parliamo solo in termini di partiti europei quando dovremmo guardare anche agli Spitzenkandidaten, spero si dica così, che sono quelli un po' che fanno la differenza con le nuove formazioni politiche del Parlamento europeo. Abbiamo visto una crescita dell'Alde, una crescita dei Verdi che potenzialmente sono partiti che possono stare in coalizione tra gli europeisti, quindi col Partito Popolare europeo di Merkel, Berlusconi per intenderci, e i socialisti europei di Schulz e Renzi, del PD. In teoria queste quattro forze dovrebbero andare a formare una maggioranza che dovrà decidere quale dovrà essere il boss dell'Unione europea. Vi ricordate la Juncker? Il buon Juncker? Juncker era il candidato unico delle maggioranze Alde, Partito Socialista europeo e PPE, Partito Popolare europeo, soltanto che non so se vi ricordate che ci fu anche qualche litigetto perché seppur ormai si era scelto che dovesse essere lui, a un certo punto i socialisti provarono un po' a fare l'imboscata. E quindi c'era un Partito Popolare europeo in queste elezioni che magari poteva dare uno sguardo più a destra, ma alla fine i partiti sovranisti non sono stati così forti da poter essere per loro un partner affascinante. Quindi probabilmente il Parlamento europeo si comporrà di sempre socialisti europei, Partito Popolare europeo, Alde, che per intenderci erano quelli con cui si erano candidati i fallimentari più Europa, e i Verdi che sono cresciuti tantissimo. Ho visto i dati demografici di voto di dove i Verdi hanno sfondato, e per la maggior parte di quei voti sono voti giovanili. E' incredibile quindi l'effetto Greta Thunberg in Europa, che ha portato a questo successo strepito su dei Verdi, dove sono andati male solo in Italia, ma qui probabilmente hanno una colpa tapica, sono considerati una forza simile ai comunisti, la sinistra è stata roba da 2, qualcosa per cento. Sarebbe ottimo che qualcuno andasse ad appropriarsi di quei temi, di quei valori. Vabbè, ma questo è tutto un altro discorso. Il punto è che lo Spitzenkandidaten del Partito Popolare europeo è un certo Weber, che ha litigato, insomma, ha permesso la facile fuoriuscita dal Partito Popolare europeo di Orban, perché Orban, che adesso gravita intorno a Salvini, al progetto dei sovranisti europei, in realtà era dentro il Partito Popolare europeo, ma Weber gli aveva fatto la guerra, sia quando fu attivata l'opzione nucleare di Timmermans, che è lo Spitzenkandidaten del Partito Socialista europeo, accusato di aver attivato quell'articolo per propaganda, e nelle dichiarazioni a 20 giorni dal voto, Weber aveva detto anche che dei voti degli ungheresi ne poteva fare a meno, a Orban non è andata molto giù, e quindi è fuoriuscito, e dentro il Partito Popolare europeo non tutti sono contenti o sono a favore di questa portata, però Weber ha vinto la leadership del Spitzenkandidaten col Partito Popolare europeo, anche perché ne era capogruppo al precedente Parlamento europeo, quindi in teoria i giochi li fa lui, e quindi che cosa è successo all'europeo? Quello che un po' tutti sapevamo, e cioè che le regole del gioco a grandi livelli non sarebbero cambiate più di tanto, però col fatto che socialisti e Partito Popolare europeo hanno ancora bisogno dell'alde, e con ogni probabilità per stare ancora più tranquilli ingloberanno i verdi, vanno ad inglobare i verdi nella contrattazione, nella trattazione. Ah, sono le voci da fuori. Nella contrattazione per lo Spitzenkandidaten potrebbe venire fuori un terzo incomodo tra Timmermans e Weber. Ah, tra parentesi, Timmermans è quello, non so se ve lo ricordate, che andò a parlare al Partito Democratico in un perfetto italiano dicendo di tifare per la Roma, questo perché aveva avuto il padre che seguiva in Italia, bla bla bla, personaggio di spicco della Commissione europea, personaggio incredibilmente preparato, parla sette lingue, compresi il russo, che aveva lavorato per i servizi segreti olandesi, insomma è una personalità di un certo spessore, chissà se tra Weber e Timmermans, seppur Weber ovviamente, essendo il Partito Popolare europeo il primo partito in Europa, rivendica la leadership, chissà se Timmermans può insediarlo, o alla fine i verdi e l'alde potranno proporre un terzo incomodo. A livello di progetti sicuramente l'alde che tifa da sempre, cioè io ho votato più Europa che poi non è entrato nel Parlamento, dovevo immaginarmi, ma poi diciamo qualcosa, spinge moltissimo per la fine del principio di unanimità, per quanto si vota per le questioni europee, sono molto per l'integrazione europea, per la sovranità europea, per la cessione della sovranità degli Stati all'Europa, al fine di accelerare il processo di integrazione europea. Penso che tutti da questa parte del Parlamento abbiano come obiettivo quello di accelerare l'integrazione europea, con varie mosse, io a dire la verità, adesso non le starò qui a dire tutte, ma i verdi sono anche quelli che un po' vogliono rivedere insieme ai socialdemocratici quel concetto del 3% così vincolante per gli Stati che devono rispettarlo, eccetera, eccetera, mentre su questo è un pochino più duro il Partito Popolare Europeo. Ci sono insomma delle cose che accomunano e altre cose che dividono, ma guardate che all'interno dei sovranisti europei l'unica cosa che accomuna i sovranisti europei, il Le Pen, il Partito d'Estrema Destra tedesco, Orban, Salvini, Tizio, Caio, Sembrogni, eccetera, eccetera, sovranisti, oltre alla critica all'Europa, per varie ragioni, non le accomuna nulla, perché sia per quanto riguarda la questione dell'immigrazione sia la questione economica dei soldi dell'Unione Europea cioè ci sono interessi super confliggenti faccio l'esempio Salvini vuole che si dividano gli immigrati e i clandestini in tutta Europa Orban dice ma nemmeno morto io non mi riprenderò mai quindi non capisco qual è l'interesse loro hanno stare insieme e vi ricordo che quando Salvini andava a muso duro contro l'Europa a dire noi faremo il deficit al 2.4 facciamo come si parla a noi sia i sovranisti tedeschi quelli che dovrebbero stare con lui sia Orban dicevano no, noi non paghiamo le spese folli dell'Italia quindi non capisco che tipo di partner possano essere cosa li accomuni principalmente anche perché Salvini era euroscettico ora in questa campagna elettorale le dichiarazioni sull'uscire dall'euro e su tante altre cose non ci sono state più Orban invece nell'euro ci vuole rimanere come anche perché l'Ungheria è uno degli stati che ha preso più soldi l'Unione Europea quindi questo panorama non mi sembra particolarmente cambiato si avverte sicuramente una tendenza se tutti si rendono conto di questa tendenza che cioè i partiti sovranisti quelli che erano scelti ci stanno un po' prendendo piede di tutti quanti gli stati forse questo processo integrazione europea certe cose dovranno essere fatti in questi cinque anni e poi andrei a vedere cosa è successo in Italia in Italia si parla di stravittoria di Salvini e io sono d'accordo nonché tendenzialmente felice di questo risultato perché forse dà una lezione a chi deride Salvini quando fa il vinci Salvini a chi l'accusa di essere un fascista un razzista a chi pensa di potersi opporre a Salvini con gli striccioni con le marce antifasciste forse non è così visto che ha preso un sacco piede e soprattutto farei sommessamente notare che chi si vanta di un buon risultato come il partito democratico di Zingaretti mi chiedo ma di cosa cazzo ridi ma di cosa sei felice caro Zingaretti ve lo dico io di cosa è felice Zingaretti Zingaretti è felice di un 22,7% che a livello di percentuale è di più dell'ultima elezione che è il partito democratico l'ultima elezione politica è affrontata il partito democratico sotto la guida di Renzi allora Zingaretti dice avete visto ho preso il 22,7% non il 18% come Renzi peccato dico io peccato che a livello di voti di teste che hanno votato il partito di Zingaretti abbia preso 190.000 voti in meno mettendo dentro le liste uomini del grande Roberto Speranza MDP che quindi il suo progetto di campo largo che va a recuperare questa roba qui no non c'è stato 190.000 voti in meno in realtà sarebbero mezzo milione di voti in meno se andiamo a contare anche i voti dei partiti che le politiche erano in coalizione con il partito democratico però noi faremo per comodità 160.000 voti in meno allora qualcuno dirà ma come il partito di Renzi che aveva 160.000 voti in più rispetto al partito democratico di Zingaretti aveva preso il 18% e ora come ha fatto a prendere il 22% semplicemente perché c'è un grandissimo astensionismo in occasione europea chi ha seguito il mio presente video invece avrà saputo che io fanatico del voto utile ho lanciato una moneta ho voluto fare una scommessa e votare per più Europa ma la scommessa fu più fallimentare se mai mi discostassi nuovamente al voto utile uccidetemi seduta stante ma avevo votato più Europa sia perché era portatore di alcuni concetti che io ritengo fondamentali in un'unione europea la fine del concetto l'unanimità eccetera ma soprattutto perché pensavo che al 4% ci potesse arrivare in effetti però come mi hanno fatto notare quando un'elezione europea è collegata alle elezioni amministrative il quorum si alza un po' e ad essere penalizzati sono i piccoli partiti che hanno una nicchia che stanno mobilitare che però quando va un grosso numero di persone a votare diventa più un influente quindi in effetti c'è stata un grande diciamo affluenza al voto europeo per quella che è la tendenza del voto europeo e quindi in effetti il 4% era un pochino più difficile io però nel video l'avevo detto voto più Europa semplicemente perché ritengo che non cambino in modo clamoroso le cose a livello europeo non ci saranno i sovranisti che picchiano perlomeno non in queste elezioni alla fine è andata così quindi sono contento di aver sbagliato consapevolmente ad abbandonare il metodo del voto utile proprio in un'elezione che in effetti come avevo valutato non ha portato grandi conseguenze un comunque per rimanere sul partito democratico uno Zingaretti contento di non so bene cosa di aver superato il Movimento 5 Stelle che questo morto che passa davanti a Zingaretti trascinato alla corrente del fiume non è altro che un morto ucciso a monte da Renzi non volendosi alleare col Movimento 5 Stelle tra parentesi ribadisco anche un partito democratico forte di una campagna enorme condotta nel nord-est ma che ha spinto un pochino in tutta Italia da Calenda e dal progetto Siamo Europei e da Pisapia Calenda campione di preferenze nel PD candidato solo nel nord-est e Pisapia pure che è andato bene insieme i due fanno mezzo milione di voti cioè Zingaretti ha questo 22% dietro cui nascondere una mancanza di contenuti lo reputo come un 22% è qualcosa molto situazionista non solido non stabile anche se il voto dell'europea ad un anno di stanza alle politiche dimostra come questo voto sia fluidissimo cioè abbiamo un partito che Renzi dal 40% in 4-5 anni è passato al 18% e l'europea se poi vogliamo dire vogliamo fare anche esempio un referendum ma non nel caso abbiamo un partito come la Lega che passa prima al 17% e ora al 34% abbiamo un Movimento 5 Stelle che un anno fa era al 33% e ora è passato al 19% facendo superare il PG ci troviamo davanti a un voto gassoso neanche liquido dove sono andati a finire i 6 milioni di voti in meno del Movimento 5 Stelle alcuni sono andati nella Lega che ha preso 2 milioni e mezzo di voti in più rispetto alle politiche molti invece si sono astenuti cioè evidentemente c'è un popolo che ha mal digerito le giravolte del Movimento 5 Stelle su molti punti TAV TAP ILVA cose così e che probabilmente quel reddito di cittadinanza fatto arrivare repentinamente prima delle europee il reddito di cittadinanza ha fatto davvero davvero male si vede che era per comprare il voto non ha comprato il voto molto bene quindi quando ho visto Di Maio non presentarsi in conferenza stampa durante la notte e vederlo il giorno dopo lì come se nulla fosse senza presentare dimissioni molto più dignitoso Renzi che ha presentato le dimissioni quando ha fallito bah mi ha stupito un Berlusconi che col suo 8,5% vabbè Giorgia Meloni che va bene può convincere di più un Salvini ad andare a nuove elezioni cioè lo rassicura visto che Salvini e la Meloni insieme fanno il 4% Berlusconi è ancora non totalmente inutile perché seppur è vero che il Movimento 5 Stelle al 19% ha perso 6 milioni di voti al sud è ancora primo partito e visto che per legge elettoria italiana per avere la maggioranza di rappresentanti in Parlamento bisogna vincere un 30% dei seggi con le elezioni uninominali forse in Sicilia dove Salvini non ha il 34% nazionale ha dei voti più bassi insieme alla sola Giorgia Meloni non vincerebbe tutti i collegini uninominali quindi un Berlusconi è ancora una forza dentro il centro-destra cioè se Salvini vuole tornare a nuove elezioni deve considerare il fatto che ancora non è affrancato né da Forza Italia né dalla Meloni che i voti li ha presi principalmente a Forza Italia questo è secondo me un'analisi del livello nazionale corretta che dovrebbe fare interrogare soprattutto Zingaretti su una nuova modalità di approccio anche perché ci sono dei partitini tipo i verdi comunisti e la sinistra che insieme fanno un 7% totalmente dispersi in queste elezioni europee ma che tendenzialmente sono dispersi anche alle politiche mentre più Europa perlomeno alle politiche con voglia cosa succederà quindi per il governo con questa dimostrata forza di Salvini siamo arrivati all'ultimo diciamo macro siamo andati all'Europa all'Italia ora andiamo a vedere dentro il governo beh dentro il governo io credo che adesso i 5 stelle si rendano perfettamente conto che il loro approccio morbido su molte questioni su Salvini e aver praticamente detto sì a cose che avevano giurato sarebbero state no non porta risultato Salvini sa che ora ha un peso specifico enorme e io penso che la prima battaglia si combatterà sulla TAV ci sarà un Salvini che è forte di questo voto dirà ora si fa e i 5 stelle che rendendo di secondo che dei troppino che hanno detto gli rimane questa grande battaglia ideologica sulla TAV e bisogna vedere un pochino cosa succederà credo che però sulla TAV il compromesso sia possibile nel senso sentivo un'analisi non so dove sulla 7 effettivamente i 5 stelle avevano provato a rivedere la loro posizione sulla TAV con un costi benefici ora da questa relazione costi benefici che è stata anche contestata per vari motivi veniva fuori che i costi erano superiori ai benefici hanno dato di nuovo il loro no se vogliono risolverla se Salvini è intenzionato a risolverla questa cosa trovano dei soldi da far mettere all'Unione Europea o alla Francia un po' di più i costi benefici si riequilibriano e forse alla fine su quello possono trovare il compromesso ma ci sono tante altre questioni che sono difficili da pensare e se mai Salvini volesse tornare al voto non credo lo voglia fare adesso forse aspetta che si indebolisce ancora un po' di più Berlusconi e magari prova a drenare altri voti del Movimento 5 Stelle i 5 Stelle d'altronde hanno paura a tornare al voto sia perché ci sono persone al loro secondo mandato che quindi non tornerebbero in Parlamento sia perché ci sono deputati al loro primo mandato eletti negli uninominali o arrivati grazie al straordinario risultato delle politiche il 33% che se si andessero a votare e prendesse il 19-20% il 60% di loro non tornerebbe in Parlamento questo è chiaro quindi questi deputati potrebbero o vendersi al miglior offerente a destra oppure secondo me potrebbe accadere questo se proprio fosse necessario e cioè invece di andare al voto interloquire con il Zingaretti che parla di campo largo senza essere molto preciso specifico e chiaro come diciamo da una parte si darebbe diciamo così la marginalità alla testa di Matteo Renzi ma i deputati di Zingaretti attenzione che sono ancora i deputati di Zingaretti sono ancora di Renzi e dall'altra parte però si dovrebbe chiedere la testa di Di Maio se andasse un fico a sostituire la leadership di Di Maio a quel punto un matrimonio PD Zingaretti e 5 stelle fico sarebbe possibile e potrebbero attendere che si sgonfi la Lega e fare delle cose insieme con non un contratto di governo come quello finto l'inciucio Lega 5 stelle fa un contratto di governo come fanno in Germania cioè che ogni argomento ha 150 pagine scritte ben definite non dei puntini generici però ripeto per Zingaretti potrebbe essere difficoltoso farlo senza che cada la testa di Di Maio proprio perché ci sono i parlamentari di Renzi ancora lui gestisce i parlamentari di Renzi come hanno accolto il risultato del PD Renzi Calenda eccetera Renzi incredibile secondo me ho scritto un post su facebook su questo ha scritto la Lega ha stravinto non c'è niente da dire l'unico modello per combattere la Lega è quello di Firenze dove Nardella ha vinto per la seconda volta ed è diventato il nuovo sindaco nessun commento sul PD sulle percentuali nulla mi fa capire vi fa capire vi ci fa capire come il Renzi si è stato leale a Zingaretti non facendo alcuna polemica pubblica nessuna guerra pubblica anzi sostenendo il partito democratico alle europee perché voleva vedere un po' come andava la situazione e Zingaretti copre copre quello che in realtà non è stato un successo e secondo me c'è anche una differenza di stile perché quando il PD alle europee vinse al 40% nella foto la nostra transal della squadra c'erano tutti tranne Renzi quando vinsero al 40% quando persero c'era solo Renzi invece adesso che è andata bene a livello di propaganda che può fare Zingaretti le cose sono andate bene la foto era solo di lui e Gentiloni che è il presidente del partito in questo momento quindi per concludere con un pensiero io penso che Salvini non abbia paura di andare a nuove elezioni penso che Zingaretti possa cercare nuove elezioni per avere parlamentari dalla sua e quindi poi le successive elezioni vedere se riescono in due Movimento 5 Stelle e PD 20 e 20 40 a fare una maggioranza loro ma secondo me stanno facendo dei conti totalmente sbagliati perché poi si aprirebbe una lotta interna per chi sarebbe candidato con il PD in Parlamento e seppur Zingaretti ha vinto con le cifre con cui ha vinto nel partito democratico se facesse uno sgarro con Rossarrenzi la porta gli apre il portone per uscire e fondare un altro soggetto magari con Pisapia e Calenda però queste sono solo le recuperazioni insomma a sinistra nel PD Renzi ancora conta e conta tanto Zingaretti facesse poco lo sveltarello c'era forse qualcos'altro che dovevo dire il reddito di cittadinanza no devo farci un video a parte per raccontarvi di che porca tene questa comunque era l'analisi post voto e penso che per una settimana o due potrò essere un pochino più presente su Youtube quindi attivate la campanellina iscrivetevi qua sotto perché le notifiche possono arrivare e possono arrivare anche sul secondo canale dove ci voglio mettere delle cosette un grazie a tutti per aver seguito che è arrivato fino a qui complimenti pop corn sono finiti un saluto